Contro i pronostici della vigilia la Pontese Veneta si è giudicato il titolo di campione d'Italia a squadra in categoria A per il 2014 battendo in finale i favoriti della vigilia, il GSRO BRB che ha concluso al primo posto con tre punti di vantaggio il Girona all'italiana di qualificazione. Poi dopo è successo quello che a volte succede, l'imprevedibile e anche il favorito della vigilia non riesce nell'intento. Infatti il GSRO BRB che era la favorita e tentava la scalata al suo quinto titolo di campione d'Italia, a tempo scaduto dopo cinque ore di gioco i Veneti si impongono nella coppia contro i fratelli Carlo e Paolo Ballabene e Bruzzone pareggia l'individuale dando così la vittoria alla Pontese. In semifinale il GSRO BRB aveva battuto il Chieri per 19,5 e la Pontese la Perosina per 13,11. Sempre all'anno, sabato e domenica si disputerà il titolo di campione nazionale femminile tra il Butrio e il Grafi Studio dell'Est, l'assunta e il carcare per quanto riguarda l'Ovest, per poi passare alla domenica successiva, alla gara più importante dell'anno a livello internazionale, la gara di Alassio. Dopodiché comincerà la Coppa Italia a squadre e poi per cominciare di nuovo con il primo turno di Coppa Europa. Coppa Europa che vedrà impegnata al primo turno il GSRO BRB contro i croati. Iniziamo! Passo!